Buonasera, benvenuti in Dr. Spy. Oggi vi presentiamo degli orologi da polso con telecamere audio e video integrati. Questi dispositivi hanno le stesse caratteristiche, ma estetiche diverse. Abbiamo il primo orologio con cinturino in pelle, più classico, poi abbiamo il secondo orologio con cinturino d'acciaio. I dispositivi hanno entrambi una telecamera audio e video integrata in HD, angolazione 95 gradi, microfono midirezionale fino a 5 metri, memoria già integrata, abbiamo questa versione da 8GB e questa versione anche da 8GB. Una volta eseguite le registrazioni si può scaricare tutto con il cavetto in dotazione direttamente dal computer. Gli orologi funzionano ovviamente anche da orologi classici analogici, hanno due batterie a litio interne, una incaricabile tramite il cavetto e l'altra usa il jet che servirà solo per far funzionare normalmente il loro orologio. I dispositivi sono prodotti professionali in vendita presso il nostro negozio o direttamente sul nostro sito. Vi ringraziamo per averci seguito, ci vediamo al prossimo video.